Ciao a tutti ragazzi, grazie mille per le 100.000 visualizzazioni, da Leonardo Alessandro Daniele Woff Francesca Egeo Lorenzo Eh ma Lorenzo mi è tracciato Vabbè Gire, semmai si può Dai rifacciamo Vai Ok ok, zitti che dopo lo tagli Ok zitti, lo tagli Egeo Ok E Lorenzo che c'è però, porca miseria Lorenzo Ok 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 Odgilo